Tony Blair invase l'Iraq nel 2003 senza che ci fosse una minaccia eminente di Saddam Hussein contro l'Occidente. Secondo il rapporto britannico sulla guerra in Iraq, l'allora premier presentò prove sul fatto che Saddam Hussein avesse armi di distruzione di massa con una certezza che non era giustificata. È ormai chiaro che la politica in Iraq è stata costruita sulla base di valutazioni e informazioni errate che non sono state contestate come avrebbero dovuto essere. Tony Blair ha detto che le difficoltà incontrate in Iraq dopo l'invasione non potevano essere note in anticipo. Non siamo d'accordo. Ho agito in buona fede nell'interesse del paese, si è difeso l'ex premier. Tony Blair ha respinto l'accusa di aver mentito. Il Parlamento e il governo non furono ingannati e non si trattò in segreto l'impegno ad andare in guerra. La decisione di andare in guerra in Iraq e deporre Saddam Hussein all'interno di una coalizione di 40 paesi guidata dagli Stati Uniti è stata la più difficile e sofferente che ho dovuto prendere nei miei dieci anni da primo ministro. Di questa scelta mi prendo la piena responsabilità, senza eccezioni o scuse. Visto tuttavia che Saddam Hussein non ha dimostrato di aver avuto armi di distruzione di massa, la decisione di entrare in Iraq e per rovesciare il suo regime è stato uno sbaglio? Posso dire che io mi scuso per il fatto che le informazioni di intelligence che avevamo ricevuto fossero sbagliate, perché anche se Saddam le armi chimiche le aveva usate largamente contro il suo popolo e contro altri, quel programma non esisteva nel modo in cui noi lo avevamo pensato. Per questo posso chiedere scusa. Posso chiedere scusa anche per alcuni degli errori di pianificazione, sicuramente i nostri errori nella comprensione di quello che sarebbe successo una volta rimosso il regime. Però trovo difficile chiedere scusa per la rimozione di Saddam. Penso che anche oggi, nel 2015, la situazione è migliore senza di lui piuttosto che con lui. Guardando l'ascesa dell'Isis, molti indicano l'invasione dell'Iraq come la causa principale. Che cosa risponde? Ci sono elementi di verità in questo, però penso che dobbiamo essere estremamente attenti, non capire malamente quello che sta succedendo. Naturalmente non si può dire che quelli di noi che hanno rimosso Saddam nel 2003 non hanno alcuna responsabilità per la situazione del 2015. Ma è importante anche rendersi conto, prima di tutto, che sull'Iraq di oggi avrebbe comunque inciso la primavera araba iniziata nel 2011. In secondo luogo, l'Isis in realtà è venuto alla ribalta da una base che si trova in Siria, non in Iraq. E questo mi porta a dire una cosa più ampia. Se consideriamo le politiche di oggi, noi abbiamo cercato di intervenire con le forze di terra in Iraq. Abbiamo cercato di intervenire senza forze di terra in Libia e non abbiamo cercato alcun intervento militare pretendendo un cambiamento di regime in Siria. Per me non è nemmeno chiaro che, sebbene la nostra politica non abbia funzionato, quelle successive abbiano funzionato meglio. Presidente, in queste ore i nostri elettori, i cittadini italiani, sono molto preoccupati per lo svolgersi degli avvenimenti in Siria e anche perché hanno una sensazione molto sgradevole, cioè quella di assistere a un film per molti versi già visto. Credo che tutti noi ricordiamo l'immagine estremamente iconica, come oggi si suol dire, di Colin Powell con la sua fialetta. Quasi tutti noi, forse un po' di meno, ricordano Tony Blair quando chiese scusa ai suoi elettori per aver sostenuto l'attacco contro l'Iraq, del quale i suoi servizi avevamo detto che deteneva nocive e letali armi di distruzione di massa che poi in effetti non vennero trovate. Quindi mi associo innanzitutto alle parole del senatore Malan nell'esortare alla prudenza e nel portare avanti l'esigenza di conoscere ed appurare esattamente i fatti prima di deliberare. Il rischio di un'escalation è estremamente serio e mi chiedo in tutto questo scenario quale sia il ruolo di quella Unione Europea, più comunemente nel nostro dibattito chiamata impropriamente Europa, che viene da molte parti politiche sostenuta proprio sulla base dell'argomento che sarebbe un interlocutore autorevole, che sarebbe capace di intervenire e di gestire situazioni di conflitto geopolitico come quella alla quale stiamo assistendo. Ecco, basta pensare al precedente della Libia, in che cosa ci ha aiutato la nostra fratellanza europea. Abbiamo avuto la sensazione di essere traditi e abbiamo anche avuto, non la sensazione, ma l'evidenza del fatto che sconvolgere equilibri geopolitici da noi non pienamente compresi ha determinato una catastrofe umanitaria che poi si è riflettuta in modo molto pesante sulla vita degli italiani, con il fenomeno dei flussi migratori, creando tanti rifugiati, creando tante persone che hanno bisogno del nostro aiuto, ma non dobbiamo mai dimenticare che a monte della situazione drammatica ci sono state delle scelte di carattere politico e in particolare militare, che poi si sono rivelate avventate. Questo è un rischio che noi non possiamo permetterci di correre, dovendo ancora sopportare le conseguenze di precedenti scelte avventate. Ed è per questo che mi associo a chi mi ha preceduto nel chiedere che il Governo venga a riferire in aula, venga ad informarci e soprattutto venga a dirci di quali informazioni realmente dispone e che cosa sta chiedendo nelle sedi competenti perché venga fatta con un'inchiesta internazionale indipendente luce su quanto è realmente accaduto. Grazie Presidente. Ho sempre detto durante la campagna elettorale che con noi al Governo l'Italia rimarrà alleata dell'Occidente, nel patto atlantico, nell'Unione Europea e monetaria. Non è stata citata la politica estera. Allora, io ricordo che la prima dichiarazione che ha reso Di Mai, uscendo dalla consultazione con Mattarella, fu una difesa molto netta delle nostre alleanze internazionali, sia sul piano economico, sia sul piano europeo, sia sul piano militare. E onestamente mi verrebbe da dire che sul piano forse della politica estera lei dovrebbe essere più vicino al Partito Democratico che alla Lega. E volevo proprio chiederle questo. Se, come temiamo che succeda, domani o dopodomani ci saranno dei bombardamenti in Siria, da parte degli Stati Uniti, magari con l'appoggio britannico e francese, come si schiere il suo partito e il suo movimento e rispetto al contratto di governo e a un Salvini che ha già espresso giudizi durissimi a favore della Russia e contro gli Stati Uniti, come va a finire sul piano del contratto con Salvini? Il contratto di governo è molto utile perché nel modello tedesco uno dei primi paragrafi di questo contratto è proprio delineare la linea di politica estera della coalizione tedesca. Nel caso nostro io non parlerò di coalizione, di alleanze, appunto è una convergenza su dei temi con un contratto. Quello che ho detto all'uscita dal Quirinale è la linea di politica estera che io mi sento di garantire come Movimento 5 Stelle. Noi resteremo nella Nato, siamo alleati dell'Occidente, degli Stati Uniti e nell'ambito dell'Unione Europea e dell'Unione Monetaria l'Italia ci resta, ovviamente accogliendo tutte le sfide insieme agli altri paesi, per esempio Francia e Germania stanno avviando un piano di revisione del meccanismo Deficit Peel. È molto interessante andare a quel tavolo e cercare di individuare degli strumenti. Parliamo di bombardamenti. Per quanto riguarda la questione dei bombardamenti, essere vicini all'uno o all'altro non fa differenza nel senso che sia Renzi in passato si è rifiutato di concedere le basi per quanto riguardava la Libia e allo stesso tempo sento Salvini che dice di scongiurare bombardamenti. Quello che mi sento di dire è che proprio perché siamo alleati dei paesi occidentali e degli Stati Uniti si debba consigliare i nostri alleati in un'ottica di pace sempre e quindi mettiamo in moto le nostre diplomazie per evitare scongiurare qualsiasi bombardamenti. Se le chiedono le basi, scusi, lei è Presidente del Consiglio e la Nato le chiede le basi italiane per far partire gli aerei che bombardano la Siria? Io spero che non si arrivi a quel momento e abbiamo chiesto al Presidente Gentiloni di venire a riferire in aula perché non abbiamo di queste notizie in questo momento, in queste ore ma soprattutto è utile come alleati trovare una soluzione che non prevede i bombardamenti. Ma lei le basi le darebbe o non le darebbe? Oggi non c'è richiesta questo intervento e per questo io non dichiaro perché altrimenti sembrerebbe già che stiamo mettendo le mani avanti offrendo la disponibilità delle nostre basi. Io scongiuro qualsiasi intervento militare ulteriore in quelle zone che già sono continuamente massacrate da interventi militari. Salvini dice però che non è vero, è una fake news la storia, che Assad, il capo della Siria, abbia mandato i gas per ammazzare uomini, donne e bambini. Invece su questo non giungo già a conclusioni, anzi chiedo il più possibile all'Organizzazione delle Nazioni Unite e anche alla Nato stessa di fare il più possibile chiarezza in modo tale che possiamo avere un quadro completo. Quindi io non lancio già... Però non è convinto che Assad abbia lanciato i gas. Ma figuriamoci, io non sono lì, no? Io ho detto, stiamo attenti a quello che diciamo su questo. Io ho chiesto di fare un'inchiesta dettagliata in modo tale di avere un quadro. Chi dice sono già fake news, o è stato in Siria mentre succedeva quella cosa ed è difficile sia stato lì, oppure sta già speculando su questo caso. Però guardi, la sua richiesta è stata avanzata non più tardi di tre giorni fa in sede ONU dagli Stati Uniti ed è stata bloccata, perché lei sa che in sede ONU bisogna decidere unanimemente, ed è stata bloccata da un veto russo. Quindi siccome mi pare di capire che la sua posizione al momento sia prudente, e questo credo che sia giusto, perché bisogna capire bene cosa è successo e soprattutto stanotte potrebbero esserci dei bombardamenti. Speriamo di no. Speriamo di no, ma la sua posizione è equidistante in questo momento. Lei dice, voglio vederci chiaro, diremo a tutti e due, ai russi e agli americani, di stare attenti a non provocare una guerra, ma la verità è che se la sua posizione di partenza è quella che ha detto, cioè Nato, Occidente, Europa, è difficile essere equidistanti. Nato, Occidente, Europa vuol dire criticare la Russia, ammonirla. Altro aspetto, lei sa che il dittatore siriano oggi ha abbandonato il suo palazzo e lo ha fatto scortato da militari russi, quindi c'è un'evidente solidarietà, cosa che si sapeva, dei russi nei confronti di Assad. E la stessa posizione di Assad, per tutta la durata della crisi siriana, che non è cominciata ieri, neanche l'altro ieri, la stessa posizione di Assad è stata spesso in bilico. Cioè, c'è stato un fronte che ha detto, aspettiamo che si risolve il problema del califato, aspettiamo di incalmierare il problema del terrorismo e poi penseremo ad Assad. Ma c'era anche un fronte che diceva, liberiamoci di Assad perché lui è la causa di quello. Infatti su questo io credo che dobbiamo capire se l'Italia debba contribuire all'escalation o debba contribuire a fermare queste escalation. E questo dovrebbe dirci una grande forza diplomatica che abbiamo avuto, ma quando mai in tutti questi anni, pur stando nella Nato, pur essendo alleati dell'Occidente, abbiamo sempre portato avanti questo genere di azioni? Anzi, noi siamo stati molto spesso un paese che è stato un ago della bilancia in decisioni importanti che potevano provocare un'escalation. Quindi io credo che essere alleati significa anche consigliare i nostri alleati verso la strada giusta. Beh, mi pare di una posizione neutralista questa. Ma no, ma la posizione dell'Italia in tutti questi anni è sempre stata molto attenta e prudente. D'Alema diventò Presidente del Consiglio già quando gli americani sapevano che avrebbe autorizzato il bombardamento del Kosovo. Perfetto. Quando ci hanno chiesto le basi... Citando dei casi. Stiamo parlando per esempio... Ora, guardi, lungi da me parlare di Presidenti del Consiglio passati e riferirli come modello. Però sappiamo bene che ci sono state delle epoche in cui i nostri Presidenti del Consiglio hanno portato avanti degli attacchi militari in alcuni scenari e altri in cui hanno consigliato i nostri alleati in un'altra direzione. Ora, queste sono ore importantissime nella quale l'Italia, ed è per questo che abbiamo chiesto un intervento al Presidente Gentiloni, sono sicuro che con la sua diplomazia saprà anche cercare di fermare l'escalation fermando un eventuale attacco. Lei toglierebbe le sanzioni alle russi? La posizione di politica che lei accetta e dice di riconoscere ci ha portati dal 1991, dalla prima guerra del Golfo a oggi, a intervenire, certo, non attivamente nelle azioni di attacco, ma a intervenire in tutte e quasi le missioni internazionali che si sono svolte in questi anni, taluna giusta e taluna sbagliata. Ma quando uno sta in un'alleanza è vincolato ad assumere certe posizioni. Assolutamente, in tutte o in quasi tutte, perché ci sono state tante occasioni in passato in cui abbiamo avuto dei governi che cercavano di mitigare gli interventi militari dei nostri alleati cercando di offrire le soluzioni alternative. Noi oggi siamo in questa fase, in queste ore, obbligati a lavorare per soluzioni alternative. Nell'ambito dell'alleanza atlantica che continuiamo a mantenere. Scusi, quando io ho chiesto a Salvini, seduto su quella poltrona, lei toglierebbe le sanzioni alla Russia, Salvini ha detto domani mattina, lei? Ma le sanzioni alla Russia le dobbiamo affrontare insieme ai nostri partner europei, perché sono delle sanzioni che nascono da un'iniziativa dei paesi europei. Allora, la differenza, secondo me, di approccio del Movimento 5 Stelle, anche rispetto al passato del Movimento, è sempre stata quella, nell'ultimo periodo soprattutto, di dire se dobbiamo affrontare dei dossier come le sanzioni alla Russia, ma come anche i parametri deficit PIL, altri parametri, affrontiamoli in seno all'Unione Europea insieme agli altri paesi. Quindi, apriamo il dibattito sulle sanzioni alla Russia, non sanzioni alla Russia sì o no, ma se le sanzioni alla Russia siano lo strumento giusto per richiamare giustamente la Russia per quello che aveva fatto, altrimenti ne possiamo usare altri. Quindi lei non si distaccherebbe dal quadro europeo. Perché il tema delle sanzioni alla Russia è un tema importante? Perché in Italia c'è una parte del comparto agricolo, del comparto manifatturiero, che sta subendo e sta soffrendo danni economici. Ma non è uno slogan sanzioni alla Russia sì o no, è un approccio a livello europeo per dire che la Russia, che ha fatto quello che ha fatto in alcuni scenari del mondo, soprattutto ai confini con l'Unione Europea, si è comportata male in quel caso. È giusto reagire sì, con quale strumento si è utilizzato quello? Io quando sono stato al Dipartimento di Stato americano, subito dopo la mia elezione a candidato premier, il mio primo viaggio è stato quello, ci siamo detti questo con gli americani. Le sanzioni alla Russia sono uno strumento, se ci sono altri strumenti che possono evitare e danneggiare l'economia italiana sarebbe meglio. Grazie a tutti.